L'efficienza nelle comunicazioni è fondamentale per qualsiasi azienda. Ciò è particolarmente vero nel settore informatico in continua evoluzione. Un'impresa leader nel settore del software aveva deciso di risolvere i suoi problemi di comunicazione implementando una soluzione VoIP su vasta scala. La società richiedeva la fornitura e l'installazione in tempi brevi di 5.000 telefoni in 35 paesi. Il progetto, è inutile dirlo, aveva una portata enorme, pertanto era particolarmente impegnativo. La società era alla ricerca di un partner affidabile in grado di muoversi con competenza su scala globale. Quel partner era Anikster. Abbiamo incaricato un direttore esecutivo che ha coordinato tutti gli aspetti del progetto, evitando al cliente di doversi occupare dei dettagli. Abbiamo contrassegnato e registrato i numeri di serie di tutti gli articoli consegnati. Abbiamo generato dei rapporti con gli indirizzi MAC dei singoli telefoni e i dipendenti a essi associati. Abbiamo creato dei kit di installazione per ogni sede. In questo modo tutto il necessario è stato spedito contemporaneamente. Abbiamo anche trovato un acquirente per i vecchi telefoni, permettendo al cliente di trarre profitto da potenziali rifiuti. Grazie alle nostre competenze di coordinamento relative alla supply chain, siamo riusciti a individuare le soluzioni di spedizione più efficienti. Inoltre, con la nostra conoscenza delle pratiche commerciali locali, come tasse, imposte e dazi doganali, siamo riusciti a rispettare tempistiche e budget ristretti in 35 paesi. Abbiamo persino indicato degli integratori affidabili nei vari paesi che si sono occupati dell'installazione dei telefoni consegnati. Riducendo al minimo il carico di lavoro del team IT e garantendo prestazioni impeccabili nei vari paesi, Anikster ha portato a termine con successo un altro progetto per un cliente importante. Grazie.